Solo una questione tecnica, si dice tranquillo il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, nessuno stop alla nuova linea del tram, solo una breve fermata in attesa che il neoministro alle infrastrutture Danilo Toninelli si renda conto del valore dell'opera. Non c'è stato nessun pronunciamento da parte del ministro in questa direzione, per cui siamo confidenti che la firma arrivi immediatamente a valle di questi giorni, quando l'attività del ministero avrà ripreso la sua funzionalità operativa al 100%. Di ben altro avviso il comitato Notram, che spera anche nell'intervento di un fiero avversario e il neo sottosegretario alle finanze, Massimo Bitonci. L'onorevole Bitonci ha un'idea diversa dalla nostra su quelli che sono i mezzi più adeguati per far fronte alle necessità della mobilità padovana, siamo disposti a confrontarci, io ritengo che il fabbisogno che riesce a soddisfare un mezzo come quello su cui stiamo lavorando non sia possibile soddisfarlo con dei bus. Intanto resta aperta la discussione sul tracciato, il vice sindaco assicura massima condivisione. Sì, sul tracciato stiamo convergendo su quella che è una soluzione ragionevole e sostenibile, rimane aperta la discussione sulla parte di Volta Barozzo, dove abbiamo tre alternative che stiamo valutando, le metteremo a disposizione della cittadinanza e cercheremo di pesarle sulla base di quelli che sono gli obiettivi sia del quartiere sia dell'intera città.